Buongiorno a tutti gli ascoltatori del notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 16 agosto. In questa calda metà di agosto le quotazioni dell'olio extravergine di oliva si mantengono stabili, come evidenziato dai recenti dati di mercato. Al 2 agosto il prezzo si attestava a 9,33 euro per poi calare lievemente a 9,23 euro il 9 agosto. Successivamente, nella settimana di ferragosto, le quotazioni non hanno subito ulteriore variazioni, stabilizzandosi così a 9,23 euro il 16 agosto. Questo andamento non sorprende, dato che il periodo di ferragosto è tradizionalmente caratterizzato da un rallentamento delle trattative commerciali. Gli imbottigliatori, infatti, stanno lavorando principalmente con le scorte accumulate nelle settimane precedenti, contribuendo così alla stabilità dei prezzi. Tuttavia, c'è una nota positiva per il settore. I consumi di olio extravergine di oliva sono in aumento, grazie soprattutto al flusso turistico stagionale. Durante le vacanze estive, molte persone scelgono di visitare le regioni olivicole italiane, acquistando prodotti locali, tra cui l'olio extravergine di oliva. Questo trend positivo potrebbe proseguire fino alla fine dell'estate, sostenendo ulteriormente il mercato. Nonostante la quiete delle trattative durante questo periodo festivo, il mercato dell'olio extravergine di oliva mostra solidità, grazie all'aumento della domanda. Resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma per il momento il settore si mantiene saldo. Mercati esteri Momento di invariabilità nelle contrattazioni dovuto al fermo di ferragosto. La situazione olearia nel bacino mediterraneo è complessa e merita attenzione. Le alte temperature e la mancanza di piogge stanno influenzando negativamente la maturazione delle olive in Grecia, a Creta in particolare, in Portogallo e in alcune regioni della Spagna. Sono buone, invece, le aspettative sulla produzione in Tunisia, Marocco e Turchia. A lungo termine saranno i prezzi a risentirne. In termini di valore, il mercato estivo presenta anche queste stranezze. Il prodotto raffinato turco sta registrando un calo. Le ragioni non sono chiare, probabilmente legate a fattori di scarsità di scorte o a una maggiore domanda. Al contrario, il lampante spagnolo sta crescendo. Questa dinamica, seppur complessa, rientra in una logica di domanda e offerta che richiederà alcune analisi. Monitoreremo attentamente gli sviluppi per fornirvi altre più approfondite chiavi di lettura del mercato dell'olio d'oliva. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi do appuntamento al notiziario della prossima settimana.